... Ciao Il cartellino giallo per il togolese Prima voluto di questo match C'è un contesto che è il pubblico di casa E sarà Ora meno ora per l'Adebayor La terza volta questa E qui ci sta il cartellino Perché è pericoloso Il montamento di Adebayor E non può arrivare E finisce due metti da l'Adebayor Quanto per voi? Stai filmato? È la prima volta che mi ricordo 20 anni Da quando mi ricordo io Non c'è una sola